Come ho scritto nell'email inviata al sindaco e all'assessore dei servizi cimiteriali, che nel cimitero di Cani ci sia più rispetto per le salme. Non sopporta di vedere i defunti lasciati abbandonati in un campo che versa in pessime condizioni. Per questo, signor Mauro, denuncia lo stato di incurio e abbandono del cimitero dell'Ulivo di Fano, un problema che ha già segnalato all'amministrazione comunale e al dirigente dei servizi cimiteriali. Dove sono sepolte, è una situazione incivile e indecorosa di una città come Fano, da quanto è trascurato, senza nessun camminamento, senza assolutamente un lumino se uno lo vuole mettere di luce. Questo è un problema che a lei la tocca particolarmente, perché lì si trova un suo caro? Se si trova mio padre, che è morto nel lontano 1970, e quindi poi quando dovevamo scegliere cosa fare, abbiamo detto portiamolo all'Ulivo. Ma non credevo che fosse in una scarpata, senza alcun camminamento, in mezzo alle erbacce, e non credo sia civile tenere i defunti in quella situazione, non solo per loro ma anche per chi va a trovarli. Inoltre, secondo Mauro, c'è un rimpallo di responsabilità tra gli uffici. Rientra certamente nelle mansioni, chiamiamole così, dell'assessore ai servizi cimiteriali e della Giunta nel suo insieme, perché è la Giunta che deve prendere poi le decisioni, cosa sistemare, quando sistemare, come farlo. E noi abbiamo contattato l'assessore ai servizi cimiteriali, Marina Bragnesi, assicura che non appena vengono sbloccati i fondi con l'approvazione di bilancio, verranno effettuate opere di manutenzione straordinaria nei cimiteri cittadini. Per quanto riguarda l'Ulivo, inoltre, si ipotizza uno spostamento delle salme in decomposte, perché per il tipo di terreno, spiega l'assessore, ogni qualvolta piove, in modo abbondante, vengono vanificati i lavori eseguiti. Verranno quindi trasferite, probabilmente, a Rosciano di Fano, oppure, in accordo con le famiglie, si potrebbe procedere alla cremazione.